L'ex sindaco di Chieti e avvocato, Andrea Buracchio, entra in Forza Italia. L'ufficializzazione del passaggio dall'Udc al partito berlusconiano è avvenuta questa mattina al Caffè Vittoria di Corso Marrucino a Chieti, alla presenza della stampa e di un utrito gruppo di cittadini. Sindaco di Chieti per due mandati, dal 1987 al 1993, Buracchio è stato segretario provinciale dal 2010 dell'Unione di Centro e vice segretario regionale dal 2015. Il suo passaggio in Forza Italia fortifica il partito berlusconiano, come sottolineato in conferenza stampa dal deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. Da oggi Andrea Buracchio, qui al mio fianco, con tutto il gruppo che lo ha sempre affiancato qui a Chieti, entra, aderisce a Forza Italia lui con tutto il suo gruppo, storico rappresentante di Chieti, ex sindaco, persona molto nota, mio amico personale. Da oggi Forza Italia è più forte, più rappresentativa, a me fa piacere anche da un punto di vista umano perché Andrea Buracchio è una persona che ho sempre stimato, è sempre stato molto vicino alle nostre posizioni. Penso che sia l'ulteriore passaggio di una crescita che Forza Italia sta facendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni e che diventa sempre più rappresentativa da un punto di vista politico per tutta l'amministrazione regionale. Sempre più radicato, sempre più rappresentativo, sempre più consiglieri comunali, regionali, amministratori. Siamo soddisfatti, siamo contenti e Forza Italia riesca ad essere così attrattiva. Forza Italia dimostra ancora una volta di essere il partito straordinariamente attrattivo, un partito ai valori liberali, dai valori garantisti, europeisti e credo che questo messaggio che stiamo dando riscuota sempre maggiori successi.